buon pomeriggio a tutti da barbara palombelli l'ospite di oggi è un ospite che insomma in qualche modo è molto gradita oggi anche per un motivo privato perché compie 36 36 anni e giorgia meloni buongiorno ben arrivata e buffa questa coincidenza perché quando abbiamo avuto guido crosetto nasceva il partito quindi in questo modo siamo stati testimoni che è nato con i fratelli d'italia sicuramente sì come è venuto questo nome chi ve l'ha suggerito qualcuno no il nome in realtà è proprio un'idea c'è un'idea mia noi avevamo già un'associazione che si chiamava fratelli d'italia a me piaceva l'idea di un movimento che avesse un nome evocativo cioè non un nome di semplice posizionamento ma un nome evocativo che che desse un significato a quello che vogliamo fare e abbiamo scelto fratelli d'italia ho scelto fratelli d'italia perché io credo che il grande limite dell'italia sia la incapacità di questo popolo di mettere il noi di fronte all'io cioè noi non riusciamo a sentirci italiani prima di sentirci tutto il resto noi ci sentiamo prima del nord o del sud uomini donne lavoratori o datori di lavoro omosessuali o eterosessuali troppe differenze giovani o vecchi piuttosto che dire ok io sono italiano poi sono un italiano di destra o di sinistra di del centro e questa sembra una 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 questione filosofica ma non lo è perché è questa nostra incapacità di comprendere che quello che facciamo quello che ciascuno di noi fa è legato al destino degli altri che ha prodotto tutta la devastazione italiana cioè se noi avessimo per esempio avuto dei governanti che si fossero posti il problema del fatto che i risultati del loro governo avrebbero coinvolto le generazioni successive oggi la mia e le future generazioni non non erediterebbero il terzo debito pubblico del mondo beh loro risponderebbero diciamo quelli perlomeno che frequentavo quando avevo la sua età e rispondevano che magari sono stati dati degli incentivi o si è speso del denaro pubblico per evitare all'epoca che il terrorismo prevalesse che ci fosse una guerra civile purtroppo è una lettura solutoria che io non condivido insomma diciamo che c'è stata una classe politica che ha pensato di poterlo fare indebitando qualcun altro perché quel qualcun altro non poteva difendersi e quindi ha scelto di vivere al di sopra dell'anno del governo tecnico abbiamo sfondato i 2000 miliardi quindi insomma anche i governi tecnici quelli fatti tutti da professori sfondano i debiti fra pochissimo iniziamo l'intervista con giorgia meloni chissà se le piace la musica di radio 2 adesso le facciamo sentire mountain sound di of monster and man luna tre minuti 40 secondi quando ho conosciuto giorgia meloni la prima volta qualche anno fa probabilmente in un'intervista mi disse guarda che io non sono come quelle che sono state prese così e non hanno mai fatto politica io ho cominciato a scuola io vengo dalla garbatella io sono una vera io ho le mie ho detto così questa auto esaltazione era però siccome eravamo nel forse nel primo parlamento dei nominati in quel clima dove le ragazze o le donne giovani erano tutte in qualche modo legate a una scelta per carità poi corretto non corretta questo secondo me lo dirà la storia perché poi insomma anche una volta quando c'erano le tessere non è che ho i voti i pacchetti non è che fosse però insomma tu ci tenevi a distinguerti il punto non è ci tenevi a distinguerti io credo molto nel valore della politica e credo che come tutte le cose che diciamo hanno una solennità la politica debba essere fatta con estrema serietà e il diritto di scelta debba stare più possibile nelle mani degli italiani allora penso che se arrivi in parlamento ci devi arrivare perché hai fatto militanza politica perché guarda al di là della della legge elettorale noi abbiamo che non ignominia questa delle liste dei nominati contro i quali mi sono battuta in ogni modo presentato la proposta di legge per introdurre le preferenze ho chiesto le primarie per i parlamentari va bene al di là della legge il punto che ci arrivi in parlamento una ragazza perché è carina o il punto che ci si arrivi perché si eh si si sono dati un po' di soldi al partito o magari perché si rappresenta un uomo sei un uomo portavoce di un uomo segretario di un uomo diciamo oppure perché sei un portavoce oppure perché sei rappresentante di una lobby finanziaria eccetera eccetera lo schema lo stesso io credo in quelli che hanno fatto politica da qualche anno prima di prendere per questo uno stipendio non credo nella retorica della società civile in politica perché penso che non ci sia niente di più civile di chi si spende in un'appassionata militanza politica perché io ho conosciuto tantissime decine centinaia migliaia di ragazzi di ragazze che hanno sacrificato la cosa più piccola la cosa più grande che avevano da dare l'esame un mese dopo non vedere la fidanzata quanti anni ha iniziato a giorgia meloni a fare politica io mi sono iscritta a una sezione del movimento dell'allora fronte della gioventù quindi movimento giovanile il movimento sociale italiano a 15 anni l'ho raccontato tante volte sulla scorta della strage di via d'amelio 1992 periodo di tangentopoli era già stato ammazzato giovanni falcone ricordo nitide le immagini della devastazione di via d'amelio e ricordo di aver detto davanti al telegiornale va beh basta e allora via d'amelio come ricorderete ha perso la vita paolo borsellino la sua scorta insomma ci fu veramente una strage all'epoca lo dico per chi non se lo ricordasse paolo borsellino era considerato vicino alla destra perché la destra di allora poi ha avuto tante trasformazioni su questo chiederò un parere a giorgia meloni la destra di allora era con i magistrati con le forze dell'ordine tanto che si diceva il partito dell'ordine in qualche modo poi che è successo con il centrodestra berlusconiano ci siamo un po allontanati dai magistrati voglio un parere perché nel programma manifesto ideologico in dieci punti dei fratelli d'italia di cui fra poco vi parleremo c'è anche l'elezione diretta dei magistrati l'elezione popolare allora quello che è successo in qualche maniera è che purtroppo c'è stato un cortocircuito nel rapporto in alcuni casi tra magistratura e politica di chi questo di chi sia la responsabilità vera di questo dopo l'innamoramento per di pietro che pure avete avuto dopo ma noi ma io guardi ho un rapporto ancora diciamo molto così insomma molto legato a quel tempo anche alla figura di paolo borsellino borsellino fu molto discusso perché in anni nei quali appunto nessuno parlava con la destra paolo borsellino venne a raccontarci del suo lavoro in un campo nazionale dell'allora fronte della gioventù quindi insomma fu un uomo coraggioso indipendentemente dal fatto che fosse o non fosse di destra insomma era un uomo che parlava con tutti è stato un grande esempio anche per questo per i giovani che cosa è accaduto è accaduto a mio avviso che a un certo punto in italia c'è stato un cortocircuito nel rapporto tra magistratura e politica che ha purtroppo devastato la credibilità della politica e della magistratura e io credo che in questo tempo o noi proviamo a fare un patto d'onore solenne oppure non ne usciamo nell'atto costitutivo di Fratelli d'Italia c'è scritto che noi non candidiamo e non stiamo candidando alcuni proprio li stavamo candidando poi abbiamo scoperto che non potevamo candidarli e non li abbiamo candidati abbiamo scritto che noi non candidiamo chi ha una sentenza di primo grado di condanna quindi non una sentenza di condanna passata in giudicato fermo rostando lo stato di diritto noi vogliamo dare un segnale ancora più puntuale se hai una sentenza di primo grado salti il turno finché non dimostri che sei innocente ora in uno stato di diritto questo non dovrebbe accadere però la politica ha un po' esagerato diciamo nel mistificare il principio del garantismo col principio dell'impunità e abbiamo alla fine finito per difendere un sacco di gente che presumibilmente non si meritava di essere difesa io sarei disposta a fare ancora peggio sarei disposta a dire addirittura che siccome la politica deve essere un passo avanti rispetto alla media della società noi non candidiamo gli indagati però in cambio mi serve e ci serve che la magistratura abbia lo stesso grado di responsabilità significa avere una legge sulla responsabilità civile dei magistrati significa avere in Italia una legge sul processo giusto cioè su tempi chiari per stabilire quando arriva una sentenza sulla responsabilità civile nel 1987 c'è stato un referendum un referendum che ha avuto una grandissima maggioranza dove si chiedeva che nel caso di danni appunto nel caso una persona fosse coinvolta infatti giudiziari senza responsabilità si riconoscesse come avviene per i medici e come avviene per altri categorie la responsabilità di chi non ha fatto adeguatamente il proprio lavoro come accade per chiunque abbia poi il codice Vassalli in qualche modo invece saltò esattamente perché questa è un'anomalia del sistema italiano voglio dire siccome si ha potere di vita e di morte sulle persone c'è gente che gli arriva un avviso di garanzia e si suicida si ha potere di vita e di morte e non si può fare senza essere chiamati anche in prima persona a rispondere del proprio lavoro della serietà con la quale si fa il proprio lavoro perché purtroppo questa nostra difficoltà ad avere questa responsabilità da parte della magistratura ha prodotto l'irresponsabilità anche della classe politica perché è evidente che se in assenza di una legge sulla responsabilità civile e in assenza di tempi chiari dei processi eccetera eccetera noi mettiamo la vita delle persone nelle mani soprattutto in politica nelle mani della magistratura senza avere alcun tipo di garanzia noi rischiamo di devastare persone che nulla hanno fatto l'esempio che io faccio sempre è Raffaele Fitto Raffaele Fitto è un esponente del Popolo della Libertà è stato per sei anni sotto un procedimento giudiziario con accuse estremamente infamanti ha rifiutato la prescrizione dopo sei anni è stato assolto per totale estraneità ai fatti ora chiaramente se Raffaele Fitto non fosse stato ricandidato è evidente oltretutto noi abbiamo anche adesso poi siamo in democrazia ognuno fa quello che gli pare però l'idea di questi magistrati che porta avanti dei processi contro i politici e poi si candidano contro i te ragazzi è una roba che succede solamente in Italia cioè racconta comunque di un rapporto inadeguato allora siamo in grado con quella parte a mio avviso maggioritaria di magistrati che fanno ogni giorno in maniera straordinaria il proprio lavoro che sono persone serie che sacrificano tutto insomma da Paolo Borsellino in poi ma anche quelli sconosciuti che ci sono e quella parte anche essa maggioritaria della politica di gente che non ruba di gente che non se ne approfitta di gente che non vuole fare interessi personali di fare un patto per cercare complessivamente di ridare una dignità a questo sistema di recuperare insieme responsabilità questo è solo uno dei punti del manifesto ideologico in dieci punti che i fratelli d'Italia Giorgia Meloni, Guido Crosetto e Ignazio Larussa propongono in questa campagna elettorale adesso sentiamo il tempo non inganna di Malika Ianna e poi le chiederemo anche di parlare è una piccola rivoluzione non so se all'interno poi della grande coalizione del popolo della libertà ci sarà spazio ma proprio questa mattina Guido Crosetto ha detto saremo la spina nel fianco di Berlusconi fra pochissimo con Giorgia Meloni è l'una 15 minuti 50 secondi oggi l'ospite è Giorgia Meloni che ha questi slogan fratelli d'Italia senza paura e ha creato una lista autonoma all'interno del popolo della libertà parliamo un attimo di che rapporto avete diciamo che rapporto ha fratelli d'Italia con l'universo berlusconiano e del popolo della libertà sì perché effettivamente questa è una cosa perché all'inizio sembrava che in qualche modo vi sareste staccati poi siete tornati un po' sono tornati tutti no 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 in realtà però ci siamo staccati questa è una cosa che io non riesco non so perché a spiegare ma è abbastanza semplice io sono stata nel popolo della libertà ho creduto nel popolo della libertà nella normalizzazione del nostro bipolarismo che tendesse sempre più verso il bipartitismo quindi ho messo la mia storia che era la storia della destra identitaria a confronto e in amalgama con tante altre identità ugualmente dignitose come accade in tutte le grandi democrazie europee quell'esperimento non ha funzionato non è che non ha funzionato perché non fosse giusta quella strada non ha funzionato perché noi non lo abbiamo fatto funzionare per come si è realizzato allora si è costruito un partito che preferiva nominare la classe dirigente dall'alto che preferiva nominare i parlamentari sulla base di amicizie quasi di casting televisivi che non riusciva a dare una parola chiara su quelle persone che comunque evidentemente insomma avevano fatto delle cose poco chiare per l'altro Giorgia Meloni è stata candidata sui giornali a sindaco a governatore della regione a tutto io vengo candidata continuamente a comunque cosa poi però che succede non essendoci le primarie Giorgia Meloni non si può battere no 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 può diventare il Renzi del popolo della libertà perché Renzi ha utilizzato le primarie voi le primarie non le avete fatte esattamente noi le primarie non le abbiamo fatte perché anche lì si pensa che un partito che delibera all'unanimità dei suoi organismi che si celebrano le primarie e poi raccoglie 200.000 firme a un certo punto decide che le primarie non si fanno più senza niente forse è stata quella la goccia che ha fatto traboccare il voto beh io ho fatto tante battaglie nel popolo della libertà che alla fine mi hanno fatto sentire che non hanno trovato diritto di cittadinanza e per le quali io non mi sono più sentita a casa mia io ho chiesto tre anni fa che il PDL mettesse nel suo statuto una norma che vietava la candidabilità dei condannati con sentenza passata ingiudicata mi hanno guardato come se fossi un marziano ho proposto il codice etico mi hanno guardato come se fossi un marziano ho chiesto le primarie e abbiamo visto come sono andate ho chiesto una linea politica chiara perché io non avrei mai consentito personalmente alla nascita del governo Monti e abbiamo visto i risultati invece il PDL è stato un partito che prima ha fatto nascere il governo Monti poi gli ha votati i provvedimenti poi l'ha fatto cadere sull'unico provvedimento su cui non doveva andare a casa che era quello appunto della incandidabilità dei condannati poi ha chiesto a Monti il giorno dopo di guidare il centrodestra poi quando Monti ha detto no si è rimesso a fare la guerra ecco io ho detto basta e ho fondato un altro movimento che è di centrodestra dicono che Giorgio Meloni sia la prima e unica donna che ha fondato un partito in Italia allora l'ho scoperto anche io ieri l'ho scoperto anche io l'ha scritto Giancaro Perla sul giornale che io so cioè che chiaramente se Fratelli d'Italia supererà un partito che arriverà in Parlamento perché ti partiti fondati da donne e poi rimasti magari a livello comunale regionale se arriveremo in Parlamento io sarò la prima donna che è curioso anche questo in 70 anni di storia repubblicana molto curiosa ce la dice a lunga sulla condizione della donna in Italia nel rapporto con la politica ecco il manifesto ideologico in 10 punti dove si trova per chi ci sta ascoltando noi lo possiamo anche mettere sul sito di Fratelli d'Italia fratelli-italia.it e si chiama movimento politico fratelli-italia tutto di seguito punto it ecco ho trovato la directory quindi ed è io dicevo una piccola rivoluzione sulla quale appunto vi dovete battere all'interno del popolo della libertà allora il punto è questo io volevo fare le primarie all'interno del popolo della libertà per rappresentare un altro modo di essere centrodestra queste primarie non si sono potute celebrare ho fondato un altro movimento ho coalizzato quel movimento sta nell'ambito della coalizione del centrodestra perché io credo nel bipolarismo però io competo con il popolo della libertà e chiedo al popolo italiano quale modello di centrodestra vuole vedere rappresentato se è quello che fin qui ha visto con il popolo della libertà o quello che noi cerchiamo di incarnare e di rappresentare che è un movimento che si fonda sulla meritocrazia sull'onestà sulla chiarezza sulla concretezza sull'esempio dei propri rappresentanti e così non ci saranno più alibi per dire e anche su molte norme difesa della famiglia dell'impresa molto pratiche appunto che non si deve anticipare l'IVA naturalmente se non si è pagati semplificazione abolizione delle camere di commercio insomma c'è una piccola rivoluzione impignorabilità della prima casa in ogni caso in campo economico molto interessante andate a vederlo non lo possiamo riassumere tutto ma insomma è una piccola rivoluzione lo trovate su movimentopoliticofratelliitalia.it sentiamo l'ultimo brano di oggi poi ci vuole il giudizio sulla musica di Radio 2 di Giorgia Meloni siamo qua in diretta con Giorgia Meloni del Movimento Fratelli d'Italia che però ha un sito diverso da quello che ho detto prima è fratelli-italia.it dove c'è il programma c'è una bella foto e c'è questo slogan senza paura noi abbiamo ricevuto diversi messaggi sulla pagina Facebook di 28 minuti a uno tengo in particolare l'ho passato adesso a Giorgia Meloni la questione della direttiva Bolkestein per la messa in vendita all'asta di tutti gli stabilimenti balneari italiani e quindi qual è il problema questa è una grande questione che io ho seguito personalmente quando sono stata soprattutto in Versilia insomma in quelle zone lì che sono molto chiaramente coinvolte dal tema c'è un grande movimento sì le donne da mare tra l'altro sono molte donne quelle che siamo rivolte molte donne e molti giovani anche in questo ambito qui e sono assolutamente dalla loro parte nel senso che ritengo che fermare stando insomma le concessioni se ci sono delle famiglie che hanno investito milioni di euro nel corso degli anni per migliorare le strutture per renderle competitive poi non si può dire che quei milioni di euro vanno a qualcun altro che gestisce le strutture insomma si deve trovare un punto d'incontro e quindi delle concessioni che possono essere abbastanza lunghe da vedere rientrare almeno gli investimenti che sono stati fatti comunque ho girato il messaggio a Giorgia Meloni donne da mare e abbiamo veramente Giorgia due minuti e allora che cosa la lista prende un buon numero di risultati si arriva in Parlamento quali sono le prime due battaglie quelle secondo voi secondo Crosetto la russa Giorgia Meloni che è qui con me fondamentali quelle con cui si comincia la prossima legislatura ne ho in testa più di due sicuramente scrivere in Costituzione che la tassazione non può superare il 40% che la pressione fiscale non può superare il 40% del prodotto interno lordo attualmente al 53% però anche forse che gli evasori vanno arrestati sì però intervenire sull'evasione delle big company delle grandi strutture perché non si risolve il problema dell'evasione facendo il ready test come ha fatto il governo Monti quando poi le banche evadono 5 miliardi di euro e patteggiano con lo Stato il rientro di un miliardo di euro andiamoli a prendere lì i soldi perché l'abolizione del limu sulla prima casa che è un'altra cosa che vorrei fare costa 3,8 miliardi di euro con i soldi che hanno evaso le banche ci si copriva l'abolizione del limu sulla prima casa dopodiché secondo me un'altra cosa che va fatta l'abbiamo citata prima volando è l'impignorabilità della prima casa la prima casa non deve essere pignorabile appunto da Equitalia e tutti i problemi noi conosciamo basta una multa per essere pignorata e invendibile io ho esattamente io ho una fissazione autentica per il tema della demografia e della natalità considero che non sia una civiltà quella nella quale noi ci poniamo il problema di come garantire il diritto di abortire e non ci poniamo il problema di come garantire il diritto di mettere al mondo un bambino perché i figli sono diventati dei beni di lusso e mi piacerebbe un modello molto simile a quello francese nel quale quando fai il terzo figlio praticamente non paghi più tasse perché noi non capiamo che o invertiamo i dati sulla demografia o l'Italia è una nazione il cui welfare non può reggere noi avremo sempre di più persone da mantenere e sempre meno persone che le mantengono e quindi siamo destinati diciamo a un sistema di welfare assolutamente drammatico se non invertiamo questi dati e poi sicuramente su questo sono d'accordo una delle cose poche sulle quali sono d'accordo con Silvio Berlusconi bisogna togliere le tasse a chi assume under 35 ecco ma questo 10 secondi per dire com'è questo Berlusconi che è sempre in tv che recupera che ha messo è un grande combattente un grande combattente sicuramente però io vorrei offrire anche un'alternativa ecco non vi colpisce a voi appunto oggi compie 36 anni l'età media dei contendenti che è altissima ma credo che la 62 è Bersani assolutamente sì ma dobbiamo anche fare i conti con il fatto che gli italiani invocano il rinnovamento e poi sembrano sempre averne paura non si fidano di chi non abbia ancora raggiunto l'età pensionabile ma forse è arrivato proprio il tempo per un'altra generazione di misurarsi che è la generazione senza futuro quella sulle quali sono stati scaricati i costi di chi ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità perché i risultati di un'Italia da sempre governata dagli ultrasettantenni sono sotto gli occhi di tutti grazie ancora auguri oggi è il compleanno il 15 gennaio capricorno di Giorgio Meloni grazie a Riccardo Orsini per la collaborazione tecnica Cecilia Di Gennaro che è la curatrice del programma Viviana Pregadio che lavora in redazione Emma Caggiano che è la nostra regista se volete contattarci noi siamo sempre a 28minuti.rai.it da lì potete andare alla nostra pagina Facebook mi impegno a mettere il sito giusto dei fratelli d'Italia che è fratelli-medioitalia.it fra pochissimo il GR2 l'almanacco di 610 e poi alle 13.40 un giorno da pecora a domani grazie a tutti grazie a tutti